Tempo di saldi, tempo di shopping sfrenato, di corsa allo sconto e alla promozione migliore, ma è anche tempo di possibili brutte sorprese, le classiche fregature che si nascondono dietro a quelle che in apparenza si presentano come imperdibili occasioni. Per questo anche quest'anno il Codacons ha diffuso il decalogo con le 10 regole da seguire per fare acquisti in tutta sicurezza. Numero 1, conservare sempre lo scontrino. Non è vero che i capi in svendita non si possono cambiare. Il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se il cambio non è possibile, ad esempio perché il prodotto è finito, avete diritto alla restituzione del denaro e non ad un buono. Si hanno infine due mesi di tempo e non 7-8 giorni per denunciare il difetto. Numero 2, le vendite devono essere realmente di fine stagione. La merce posta in vendita sotto la voce saldo deve essere l'avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. State quindi alla larga da quei negozi che avevano gli scaffali semivuoti poco prima dei saldi e che poi si sono magicamente riempiti dei più svariati articoli. Numero 3, girare per negozi. Nei giorni che precedono i saldi andare a cercare quello che interessa, segnalandone il prezzo, così si può verificare l'effettività dello sconto praticato e andare a colpo sicuro, evitando inutili code. Numero 4, consigli per gli acquisti. Cercare di avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio, così si è meno influenzabili dal negoziante e si corre meno il rischio di tornare a casa colmi di merce, magari anche a buon prezzo, ma della quale non si aveva alcun bisogno. Numero 5, diffidare degli sconti superiori al 50%. Spesso nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi. Si gombia infatti il prezzo vecchio, così da aumentare la percentuale di sconto e invogliare maggiormente all'acquisto. Numero 6, servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già il prezzo o la qualità, in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell'acquisto. Numero 7, negozi e vetrine. Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore percentuale dello sconto applicato. Il prezzo inoltre deve essere esposto in modo chiaro e ben leggibile. Controllare che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova e a prezzo pieno. Numero 8, prova dei capi. Non c'è l'obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante il consiglio di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati. Numero 9, pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l'adesivo della carta di credito del Bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento, anche per i saldi, senza oneri aggiuntivi. Numero 10, attenzione alle fregature e se pensate di averne presa una, rivolgetevi al Codacons oppure chiamate i vigili urbani. Grazie. 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 Grazie.